Il mercato italiano alla fine di agosto non sta performando in modo brillante la perdita, il passivo rispetto allo stesso periodo, quindi gennaio-agosto del 2021, è di ben il 18%. Considerando che ci sono stati degli investimenti da parte dello Stato in incentivi alla rottamazione, non possiamo considerarlo certo un mercato brillante e un risultato di successo. Forse si riflette, andando un po' nel campo delle opinioni, si riflette l'incertezza che regna un po' nel mercato, in noi quando siamo clienti, nel comprendere quale possa essere la soluzione dell'immediato futuro o del futuro più lontano della mobilità. L'elettrico o l'ibrido? Quale tipo di ibrido? Per questo ci sono marchi, tra cui vorrei mettere Suzuki, che cercano di rendere semplice la scelta, con una scelta ibrida al 100%. Ibrido significa che nell'immediato e a più lungo termine le vetture saranno sempre aggiornate e il giorno che dovesse entrare l'elettrico in modo forte, grazie ad una rete di infrastruttura di ricarica più puntuale, più presente sul territorio, sarà molto facile dal ibrido spostarsi verso l'elettrico. Forse l'elettrico oggi soffre ancora un pochino. L'elettrico è un obbligo, non è una scelta per le case automobilistiche a causa delle normative europee e le normative non si possono discutere e si devono rispettare. Quindi è certo che il futuro sarà elettrico, ma l'avvicinamento a quel momento deve essere graduale e questo non può avvenire oggi, questo avvicinamento graduale non può avvenire oggi per tre motivi. Il costo delle vetture elettriche è molto alto, è sostenuto. Quando si può fare un paragone diretto, il prezzo di listino di un'auto elettrica è quasi il doppio di quello di una vettura tradizionale. La rete di ricarica è carente, lo accennavo poco fa, e non ci dà sicurezza sull'autonomia, cioè su quanto si può utilizzare un'auto elettrica senza l'ansia cosiddetta da ricarica. La soluzione ibrida permette invece oggi, in modo sostenibile a costi decisamente più bassi di una vettura elettrica, di mantenere una mobilità individuale, di cui abbiamo bisogno ancora e soprattutto in Italia, una mobilità accessibile. Infatti Suzuki propone l'ibrido anche su segmenti piccoli. S-Cross 140 Volt significa, in termini pratici per l'utilizzo di un cliente, che la mobilità elettrica è possibile per qualche chilometro, quando le condizioni di guida e del traffico sono quelle ottimali. Quindi un ibrido che permette di abbattere sensibilmente le emissioni e di conseguenza i consumi, quindi i costi di esercizio. S-Cross 140 Volt ha tre motori, uno tradizionale, uno elettrico più potente da 24,6 kilowatt ed uno un po' più contenuto che serve a ricaricare le batterie e oltre a tre motori ha anche tre batterie. Una, la principale, alimentata appunto a 140 Volt, che permette al motore una certa autonomia, come ho anticipato poco fa, di qualche chilometro in elettrico. Per il resto del funzionamento il motore elettrico aiuta quello tradizionale, quello a benzina, già molto efficiente. Proponiamo ai nostri clienti tutto di serie, senza sorprese. Credo che nessuno ci abbia sfidato o smentito su questo punto. Quindi dal tetto apribile in cristallo ai sistemi di guida assistita che mantengono la distanza di sicurezza automaticamente, fanno anche la fila da solo al semaforo, infatti il sistema lo chiamiamo fai la fila per me. Non dico che posso leggere il giornale, però posso rilassarmi. Questi sistemi, l'equipaggiamento di connettività, che permette sia di connettere qualsiasi standard di smartphone moderno alla vettura e anche, lanciamo con 140 Volt S-Cross, l'app Suzuki Connect, che permette da remoto di dialogare con i sistemi della vettura.